L'assessore regionale alla formazione della Toscana Gianfranco Simoncini è stato riconfermato alla presidenza dell'Associazione dei Governi Locali e Regionali L'Hall, riunita a Firenze per l'Assemblea che ha celebrato i dieci anni dalla fondazione. Scopo dell'Associazione è promuovere in Europa l'apprendimento lungo il corso di tutta la vita dei cittadini, attraverso scambi di esperienze e nuove forme di cooperazione transnazionale. Oggi il confronto oltre all'Assemblea elettiva è stato soprattutto sulla formazione durante la crisi, quindi abbiamo messo a confronto alcune realtà come quella della Svezia, del Baden-Württemberg che sostanzialmente sono fuori dalla crisi con regioni nelle quali tuttora siamo a fare i conti con le difficoltà. Da questo punto di vista ci misuriamo con l'Europa per avere maggiori interventi a sostegno dei lavoratori e di coloro che cercano lavoro e allo stesso tempo cerchiamo anche di fare tesoro delle buone pratiche. La Toscana è fra le regioni fondatrici di L'Hall che oggi conta 22 soci effettivi provenienti da altrettanti regioni europee con un nuovo ingresso, il Veneto, e 15 osservatori, tra cui l'Università per Stranieri di Siena. Il programma operativo toscano del Fondo Sociale Europeo ha destinato da 2007 al 2013 26 milioni di euro alla formazione permanente.